old rocigno che classe che stile rocigno vecchio una panoramica giù è una piazza guardate che bella piazza è una piazza spettacolare c'è una fontana, una chiesa, bel paese, era, bel paese vabbè poi è stato addobbato, cosa, casa clemente la causa dell'abbandono fu una frana questo era un erro di questo paese, il rocigno vecchio fu costruito poi qui vicino più avanti non so dove non so non so non so non so